Immagini che si commentano da sole. Questo video amatoriale apparso su YouTube è stato girato domenica scorsa a Baku, capitale dell'Azerbaijan, dove la polizia ha disperso una manifestazione contro il presidente Ilam Aliyev. Gli agenti caricano sul cellulare una donna che tiene per mano la figlia piccola che poco prima aveva gridato libertà. Sarebbero diverse decine le persone arrestate, compresi due giornalisti svedesi, 25 sono poi state rimesse in libertà. La manifestazione non è che l'ultimo tentativo delle forze di opposizione di mobilitarsi contro il presidente Aliyev, seguendo l'esempio delle rivolte in Nordafrica e in Medio Oriente, sforzi che finora sono andati a vuoto. L'Azerbaijan è un paese che riveste un ruolo centrale, sia per le sue forniture energetiche all'Europa, sia perché consente il passaggio delle truppe statunitensi dirette in Afghanistan. Il capo dello Stato, accusato di reprimere le libertà civili, ha definito i manifestanti forze antistato che cercano di destabilizzare il paese.